Mi hai consigliato di portare la supercefalo bianca, spiegaci un attimino le caratteristiche e perché utilizziamo questa pastura. Allora, la linea XP3000 Special Sea è una linea altamente specifica per il mare, studiata per determinate specie. Questa qui in particolare ha un gusto altamente formaggioso, infatti sentirai appena aperta che siamo in un caseificio. Perché? Perché chiaramente il cefalo è particolarmente attirato dal gusto formaggio. La grana è grossa, senti, è molto grezza perché i marittimi, noi marittimi, molto spesso non siamo raffinati proprio come voi. La grana più spessa aiuta soprattutto in condizioni di mare, un po' di corrente sul fondo, a aumentare la visibilità e dargli anche qualcosa di tangibile da mangiare perché questi pesci sono voraci. Certo, quando entrano in blanco mangiano veramente di tutto. Esatto. Ok, ne bagniamo 3 kg allora.